Case di riposo che vanno ripensate sicuramente, che vanno modificate. Noi abbiamo chiesto un incontro specificamente ad aprile sulle case di riposo perché non sapevamo la situazione delle case di riposo dell'Abruzzo. Delle 16 case di riposo, quello che aveva chiesto il Ministero della Sanità di capire cosa stesse succedendo, solo 6 avevano risposto. Da notizie nostre personali abbiamo appreso che un solo caso di decesso delle case di riposo è riferibile al Covid rispetto ai 47 decessi che ci sono stati nelle case di riposo. Quindi la manifestazione che facciamo oggi è rispetto a quella richiesta che avevamo fatto di incontro con la Regione per sapere che cosa è successo. La Regione non ha mai risposto a questo, non si è fatta mai sentire. L'abbiamo sollecitata di nuovo con un'altra lettera e non è sortito alcuna cosa. Quando chiediamo l'intervento straordinario e un piano per la medicina territoriale mettiamo in correlazione, facciamo un esempio sulle liste di A.T. è chiaro che se tante delle cose che si sono accumulate in questo periodo invece di andare in ospedale si devono fare sul territorio, si possono fare sul territorio, questo significa abbassare le liste di attese. Ovviamente parliamo di quelle cose che non richiedono soltanto un intervento specialistico, un'altra speciale professionalità degli ospedali. Quello che noi chiediamo è che ci sia un piano. D'altra parte la Regione questo piano lo deve fare anche per un obbligo di legge perché il Governo gli ha chiesto che deve presentare un piano per la costruzione delle rete di medicina territoriale. Questo è quello che noi chiediamo, che ci sia un intervento urgente per utilizzare al meglio i fondi che sono stanziati dal Governo e per dare risposte ai problemi che la gente vive tutti i giorni nei territori. Noi oltre che registrare una scarsa interlocuzione registriamo un scarso interesse per le problematiche degli anziani che è ancora più grave rispetto al fatto che ci sia una interlocuzione. Noi abbiamo sempre sostenuto come organizzazioni sindacali che oggi pensare agli anziani non è un problema, cioè gli anziani non costituiscono un peso per questa società ma un arricchimento della società e soprattutto una risorsa. Pensiamo proprio anche alla luce dell'esperienza che abbiamo vissuto con questa pandemia quanto nei servizi che possono essere erogati a favore gli anziani ci possano essere spazi occupazionali.